Maurizio Morra nel primo giorno di allenamento della Keraschese 2022-2023 allora ti chiedo subito quali sono le impressioni, l'allenamento sta iniziando proprio in questi minuti, tu sei un nuovo arrivo, quali sono le impressioni per questa nuova stagione? Le prime impressioni tutto bene, campionato sicuramente di livello, squadra di livello, società che conoscevo già, una società molto molto buona, come il Sommariva l'anno scorso, una società ottima che mi ha dato tanto e avevo voglia di provare nuove esperienze e poi è arrivata la chiamata del Keraschese e ho subito accettato. Faccio un passo indietro proprio al Sommariva Perno, che cosa ti ha lasciato questa esperienza in un campionato che comunque è stato un campionato competitivo e che ti ha permesso comunque anche di arrivare poi qui alla Keraschese? Sì, è stato un campionato bello, competitivo, a volte abbiamo avuto degli alti e dei bassi però ci sta in un campionato, ho fatto diciamo abbastanza bene, in una posizione che mi ha trovato mister Battaglino, che ringrazio molto e mi è piaciuto, mi è piaciuto un sacco il campionato, il gruppo c'era anche il primo anno, poi si è interrotto, però un bel campionato, un bel gruppo, una bella società e poi adesso nuova sfida a Keraschese, eccellenza che ho già fatto un anno, però poi interrotto dal Covid a Centallo e una buona sfida, speriamo che vada tutto bene, preparazione anche. Ti chiedo una cosa sul girone, considerando gli avversari, ci sono tante cunesi come ogni anno, che campionato ti aspetti, che cammino ti aspetti per la Keraschese che naturalmente è una promossa, quindi insomma il primo obiettivo naturalmente è la salvezza. Sì, il primo obiettivo è la salvezza, un campionato bello duro, ci sono delle squadre molto attrezzate, Cuneo, Acqui, squadre che sono da tanti anni qua, questo è il nostro primo anno dopo tanti anni, cerchiamo di salvarci il primo possibile, il meglio possibile e poi tutto quello che viene di buono va bene.